Il 23-24 settembre vieni con i tuoi figli nel showroom Mercedes-Benz. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, mano calzati. Tesseramento fa rima con andamento lento. Ad una settimana dalla chiusura delle iscrizioni online e dai circoli, il dibattito resta effervescente, ma su nuove adesioni non sembrano esserci impennate in vista. Solo a chiusura dei giochi si potranno definire le alleanze, condizionate inevitabilmente dal peso elettorale che assumeranno le diverse componenti. Unico punto fermo della nebulosa democratica al momento è la distinzione di Luca Governatore e De Caro Sottosegretario. Massima sinergia istituzionale, patto di non belligeranza sul fronte politico. E' soprattutto per queste posizioni che la celebrazione di un congresso unitario appare lontana. Nel frattempo iniziano ad emergere le singole posizioni. L'ex senatore Enzo De Luca si è ritirato sull'Aventino, nel tentativo di far rappesare l'appoggio della sua componente, non senza mal di pancia interni. Ora, che si smarchi dal governatore De Luca è ipotesi remota, ma pontieri sarebbero al lavoro per tessere rapporti con De Caro. E anche qui la base, in città rappresentata da Petito e Ambrosone, mal digerirebbe. Passiamo ai deputati De Muscenti, Famiglietti e Paris. Intervenendo al dibattito promosso da Open Irpinia, i due auspicano il congresso, che De Luca vede invece al rischio di ricorsi. Anteponiamo la politica ai numeri, ha dichiarato la deputata tripaldese, chiarendo che il problema non è il tesseramento online, è auspicando il confronto e non l'unanimismo. Chi in passato aveva tentato l'operazione Unità, con convergenza sul nome di Beniamino Palmieri, segretario, fu Famiglietti, che oggi marca le distanze dal senatore De Luca, sostenitore estremo di primarie per le candidature al Parlamento. Le sue dimissioni sono state un fulmine a ciel sereno, dice Famiglietti, benvengano le primarie, ma è Roma a decidere e non Avellino. Famiglietti ha poi dichiarato che se il centro guarda al PD, se ne può discutere, basta che abbassi i toni. Un'apertura di un antidemitiano d'eccellenza? In realtà i toni aspri li ha usati De Mita, più moderati quelli di Petracca, che stringe le maglie del rapporto col governatore De Luca. E chissà che ne pensa da meglio, fautrice del modello Cirietta sui territori, ma sostenitrice della necessità di misurarsi prima nel partito. Quadro Dem in continua evoluzione, con D'Agostino che sarebbe pronto ad ufficializzare il suo ingresso, concretezza e novità sarebbero le parole chiave della sua mission. Il commissario Ermini intanto prosegue nella sua dimissione, che visto il clima può diventare anche impossible, far celebrare il congresso sui contenuti.